Lasciano una piazza principale e optano per quelle periferiche, meno centrali, dove non ci sono telecamere ed è possibile spacciare con maggiore tranquillità. Così è da qualche anno che la centralissima piazza Beratinone Fosse, nel cuore dell'area urbana di Rossano, è deserta e non più frequentata da giovani e adolescenti. I flussi si sono spostati in una piazza decentrata, piazza De Gasperi, niente telecamere, poca luce e possibilità di operare più facilmente. Noi ragazzi ci accorgiamo, insomma, di questi movimenti strani, poi arrivano i controlli, la polizia, i carabinieri, poi sono le telecamere, cioè non c'è stata, diciamo, una vera e propria decisione di lasciare la piazza. Tutto è avvenuto naturalmente, come se qualcuno avesse deciso, boh, dall'alto, ma senza che ce ne siamo accorti. In piazza De Gasperi è più nascosto, isolato, non mi sembra che ci siano telecamere, insomma è più appartato. E chi fa certe cose può così, come si dice, operare più facilmente, anche se i controlli comunque ci sono ugualmente. In passato sono state molteplici le operazioni di polizia anti-droga in piazza Berradino Le Fosse. Giovani finiti dietro alle sbarre per traffico di marijuana o cocaina, bulletti capaci di sapersi destreggiare, compiglio riuscivano a sfuggire all'occhio delle telecamere. Ora si cambia zona e una delle principali piazze della città rimane deserta. E non certo per le norme anti-assembramento determinate dal Covid. Matteo Lauria per Raci News 24